Laman sarà al 38 Bling 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 Best evolution ever Allo Shaka Monasteri Lo Shaka Monasteri Con la mia troppa super potente E poi c'è anche lui Che deve crescere e diventare un tumore grande Ah comunque questa qui sarà l'ultima puntata Di questa stagione cioè adesso non è che chiudo qua Snakewood e non faccio più niente no, Snakewood uscirà con minor frequenza e farò altro tipo Mystery Dungeon e da mille anni che non lo faccio più quindi comincerò a fare un po' anche quello e usciranno meno frequentemente puntate di Snakewood aspetterò un attimino a farla perché devo rimodernizzare una cosa poi vi farò vedere comunque vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti e ci sono statue molto pittoresche è la penultima mano della briscolata, che faccio? usa l'asse no, uso il cavallo, così faccio i punti e l'asse la uso dopo no, usa l'asse adesso no sì no sì no quel cane c'è il re, tuona con l'asse scusate, posso giocare anch'io per caso? no stronzi ciao pelo devi aiutarci giovane presto vai al deserto e distruggi quella folle monstruosità che il nostro fratello Izumi sta attaccando ok giardino della meditazione fate silenzio è così ipnotico ma anche no ok sempre così fino a prova contraria è un aerodactyl però sapete che mi posso asbettare di tutto, no? è un aerodactyl, perfetto wow, è shiny mio no, no, velnarlo no io proverei a tirare la prima fuckable ah wow ok e lo chiamiamo cusci pterodino perfetto hai sconfitto il mostro? il tuo potere è grande ok devo tornare al villà questo però lo uccido dammi un po' di vita yeah ciao belly ci siamo di nuovo andiamo dal saggio ah è sconfitto il redactyl devi andare alla torre quale torre? ah dovevo andare sopra wow harroar no loro no ancora voi è il vostro ordine afro del cazzo allora se io non posso passare dietro devo sfidare quello so chi sei per favore non dire niente di stupido eh cipolle pere che perché eh ti darò la risposta la risposta è elio e anche tanto di quello ah 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 you are so not funny sono io e zumi wow combatti dalla mia parte yeah è un alleato ma quella io la conosco grazie ah ora posso andare alla torre finalmente oh co no no cosa cosa come cazzo hai fatto a vedere non lo so come cazzo hai fatto wow sono alla vetta sì sì non sto guardando quello che sta dicendo perché è inutile ai fini della trama celebri wow ho ottenuto vespa gialla no no vediamo cos'è usa brum brum madafaka eh uno e due da buongiorgio zangu luce decapitaz guo ha decapitato lo chef wow e manda cazzo è oddio perché mi ricorda gurren lagan in un modo boh hanno preso gurren lagan l'hanno fuso a uno zangus cieco e l'hanno pitturato di blu posso morire felice ti conosco fin troppo bene rager è una testa tagliata oh direi di interromper qui la puntata ragazzi ci vediamo qui sempre su questo canale con la prossima stagione di pokemon snakewood ciao belli